Allora ragazzi, si avvicinano i 2000, si avvicina il Natale, è arrivato il momento dei saluti che io mi aspetto da voi, voi che salutate questo canale. Ma video saluti, non i commenti, scrivete quanti commenti volete, siete sempre benvenuti. Ma stavo pensando, stavo pensando una volta arrivata ai 2000, di dare questo canale ai miei utenti, a chi guarda questo canale, anche il piacere per voi di vedere voi stessi un attimo su YouTube. Una cosa che può essere carina, ho aperto una mail apposta per questo, diegoctnvideo.com, la potete trovare qua giù, nella descrizione. Se volete, fate un video, giusto un video, quanti secondi volete, 10 secondi, 20 secondi, 30 secondi, ovviamente non un video lunghissimo. E dove dite una cosa del genere, preparo, prendo un altro telefono, dite, che ne so, sono, ciao, sono Diego, ti saluto Diego, qui da Pescara, qui da Bombay, qui da Singapore. So che ci sono, fate il video, salvate il video e me lo spedite per mail, dopodiché io lo prenderò e lo pubblicherò su questo canale. So che ci sono molti di voi che mi seguono dall'estero, quindi chiamo tutti, ragazzi, chiamo tutti, anzi, 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 se riuscite anche a mettere uno sfondo, sarebbe carino per tutti noi. A me piacerebbe tantissimo avere, so che c'è qualcuno che guarda fra gli abituè, chi guarda dalla Basilicata, chi da Milano, gente di G, che guarda da Genova, da Torino. So benissimo, perché vedo fra le righe molti da Pescara, alcuni da Pescara, ma so che ci sono altri da Malta, che chiamano e commentano da Malta, ho ricevuto mail da gente che è in America, che è nei Caraibi. Quindi se fate una cosa del genere, diventa davvero carino. Dite quello che volete, un saluto al canale, un saluto a me, ovviamente, saluti, ciao Diego, buon Natale, quello che volete, bel canale, eccetera, eccetera. Qui dite solo il nome, il nome che appare nei vostri commenti, quindi ho il vostro nome, fate un po' voi, utilizzate un po' la vostra fantasia su questo. Il punto è che se riesco a raggiungere un numero gradevole, carino, 10, 15, 20, 100, 500, non lo so, di video, io li pubblicherò, pubblicherò tutti. Quindi il canale diventa vostro, sarà sicuramente la prima volta su YouTube Italia, cioè eventualmente di essere protagonisti in questo. Ripeto, fate un vostro video dove vi presentate, se avete lo sfondo della vostra città, o qual parte della vostra città, così per capire un attimino, ma anche se siete a casa, non è un problema. Comunque, l'importante è che ci siate voi e che diciate il vostro nome e che salutate questo canale. Essere messi, e così ci vediamo un po' tutti, ci riconosciamo un po' tutti. Sì, è carino essere su YouTube, credetemi, anche ovviamente avere un canale è una cosa, porta via tempo, devi portare contenuti, devi capire, devi commentare, si spende tempo, ma lo si fa con piacere, in maniera amichevole, davvero, in maniera molto carina e bello avere un canale. Però anche essere, ogni tanto essere ospiti di un canale è carino. E questa è la possibilità che voglio dare a tutti voi e il piacere che ho io di invitarvi proprio in questo canale. Ripeto, c'è questa mail, quindi se salvate il video, speditela, spedite la mail direttamente su diegoctnvideo.gmail.com E dopodiché li raccoglierò tutti, li lavorerò un attimo, nel senso li metterò uno accanto all'altro e vediamo di fare qualcosa carina. E se dopo, ragazzi, chi mi segue dall'estero, fatelo, fatelo, mandatelo, mandatelo. Adesso lo faccio, vediamo se riesco, vediamo se ci riesco in inglese, perché so che c'è qualcuno che mi segue anche in inglese o in portoghese, specialmente spagnolo, in portoghese, ci sono ragazzi che mi seguono. Riusciamo a vedere noi l'origine, la provenienza di chi sta guardando i video, quindi probabilmente metteranno i sottotitoli, eccetera, eccetera. Proverò a farlo in inglese e quindi questo è un annuncio, una richiesta per chi magari è più familiare con l'inglese rispetto all'italiano, la lingua, diciamo, quella internazionale. Quindi concedetemi questi 20 secondi in inglese per fare questo annuncio in inglese. Ok, guys, what I'm asking is just, if you want to send a video, just make a video with your mobile, your phone, make a video just introducing yourself with your name, where are you from, what do you do if you want. If you can present with a landscape of your city behind your shoulder, or eventually if you are even home, it doesn't really care, it doesn't really matter. Just the point is, if you want to make a video 10 seconds or 20 seconds, you want to send it to me, you can find the mail just in the description, just behind. Yes, send the video, I'm going to publish for sure, it's going to be next week. So it's something that I would like to collect all these videos and just doing this stuff all together. So, now in Italian. Ok, ragazzi, detto questo, detto questo, avevo dimenticato di dirlo, l'ho detto prima in inglese, tenterò di pubblicarlo la prossima settimana, non so, a secondo quanto ne raggiungo. Adesso, mi avete fatto tanti complimenti, mi avete detto mi piace stare con, mi piace ascoltarti, eccetera, eccetera, mi piacciono i tuoi contenuti. Questa è una cosa invece che io sto chiedendo a voi, qui da queste parti si va molto uno sforzo tremendo, oggi ho lavorato sul mio canale inglese, però è quello italiano che mi fa battere il cuore, quindi è una cosa che vi sto chiedendo. Mandate questi video, mandateli con una mail, scrivete nella mail quello che volete, se volete chiedere, se volete chiarimenti, eccetera, eccetera. Allora, giusto, scrivete Diego, mi piacerebbe, se tu puoi pubblicare questo video, o come tu hai richiesto, se puoi pubblicare questo video sul tuo canale, così, ma giusto per, una volta che mandate, è chiaro che lo mandate per essere pubblicato e dopo una cosa pulitissima e carinissima. Sarà carina, se siamo, io già mi immagino, se siamo 15, 20, 30 o 50, sarà veramente carina, così un po' ci conosciamo e un po' ci, questa volta siete voi a salutare me. Ok, ragazzi, detto questo, sto guardando le partite, ci sarà tanto da parlare, sto vedendo cose e dopo, oltretutto, quello che è successo oggi, quello, diciamo, è sulla, questo è per il Natale che arriva e i 2000 che arrivano. Vediamo di fare questa cosa insieme. Ciao, ragazzi, ciao, ciao.